Adriano cerca ad andare in azione personale, Adriano va da solo, Adriano va da solo, si allarga, ne addosso tre, parte con un dribbling messo giù, messo giù, c'è un calcio di punizione dal limite per il fallo di Blasi, parte Adriano, il suo sinistro, il tiro, è gol, 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 Adriano è così che urlava in un noto film è così che urlava, rivediamolo ebbè ebbè e si riparte, Inter di vantaggio per una rete a zero serve chiuderla però ragazzi, serve chiuderla guardate qua, vista da dietro è quando ci arriva Fraì